Gli anime giapponesi ci hanno abituati alle più bizzarre reinterpretazioni, dai classici della letteratura fino a temi più sentiti come l'aldilà, che quando non si presenta come liceo dove ti devi menare fortissimo con gli angeli, può proporsi in veste di bar dove il tuo fato è deciso, beh, dal gioco. No, non si tratta di un perverso crossover con kakegurui, bensì dell'anime di Death Parade. Una serie che presenta non solo un'ambientazione singolare ma anche una delle sigle più faighe degli ultimi anni. Ci troviamo al Queen Decim, una sorta di bar, diciamo, dove lavora Decim, un barista ma solo all'apparenza, poiché egli in realtà è un giudice delle anime. Difatti ogni qualvolta sulla terra due persone muoiono nello stesso momento, vengono spedite in uno dei tanti luoghi come il Queen Decim, ovviamente dopo essere stati privati del ricordo di essere schiattè, per partecipare ai Death Game, che lo so fa molto giochi senza frontiere nell'aldilà ma per fortuna non è la stessa cosa. Nel corso di questi giochi, che sono decisi a caso proprio dai malcapitati, riaffioreranno i ricordi della loro vita e in base al loro comportamento durante il Death Game, le loro anime saranno fatte reincarnare o spedite impacchettate nel vuoto, una sorta di discarica perché è stato un po' una menondaccia. Il tutto mediante un ascensore molto fancy. Ogni giudice ha ovviamente il trasporto emotivo di un metallaro che ascolta un CD di un cantante neumelodico napoletano, in quanto essi non sono tecnicamente mai vissuti, sono una sorta di bambole, realizzate con le anime di chi è stato gettato nel vuoto. Inoltre hanno l'adorabile compito di continuare a emettere giudizi a nastro perché a ciò è legata la loro esistenza. Tuttavia Decime è diverso perché pian piano comincia a nutrire dei dubbi su tutto il sistema, perché effettivamente giudicare se sei degno della reincarnazione o del vuoto più totale con una partita 3-7 sembra un po' strano in effetti. A fare da assistente al nostro quasi impassibile barista c'è Chiyuki, una donna misteriosa della quale non sappiamo molto inizialmente. Scopriremo solo in seguito che si trattava di una patinatrice professionista che si tolse la vita dopo che un incidente stroncò la sua promettente carriera impedendole di pattinare ancora. Il fatto è che lei giunse al Queen Decime con la consapevolezza di essere già morta, a differenza di tutti gli altri schmemorini che se lui era un po' dimenticato per strada. A causa di ciò Decime non l'ha potuta far partecipare al giochino del muori, citazione ovviamente del trono del muori, e l'ha tenuta lì in attesa di poterla giudicare. Con il risultato che la di lei presenza lo ha cambiato facendogli provare sempre più emozioni umane. Ma perché Chiyuki ricordava di essere morta e Decime inizia così tanto a cambiare? Ebbene scopriamo che dietro a tutto c'è Nona, il capo di Decime. E dici perché? Beh, perché gli esseri super immortali si annoiano e devono pur sopperire in qualche modo alla mancanza di Netflix nell'aldilà. Che spesso il biliardo spaziale con le spade laser non diverte abbastanza. Altri personaggi clou della storia sono Oculus, col sobrissimo nome di colui che è più vicino a Dio. Quinn, la predecessora di Decime che sembra la cugina di Malocchio Moody. Ed infine Castra, una donna incaricata di abbinare le anime ai giudici. Indossando per oscuri motivi una maschera a scheletro mentre gioca con un touchscreen gigante. Ricordiamo anche la figura di Clevis, un addetto agli ascensori che sorride sempre in qualunque momento tipo paresi facciale. Nonché un altro barista barra giudice, Jinti, il quale come Decime terrà con sé per un po' di tempo un'aiutante umana in attesa di poterla giudicare. Ovvero la giovane Mayu. Che alla fine verrà destinata al vuoto per sua stessa scelta al fine di salvare la vita dell'idol di cui è innamorata predutamente. Questo essere fangirl convinte. La serie si conclude con la decisione di Decime di destinare Chiyuki alla reincarnazione. Con la consapevolezza di provare ora dei sentimenti umani e che l'intero sistema va rivisto. In quanto ha compreso un po' di più la natura umana che non può essere certo giudicata così. E meno male direi che sono una mezza schiappa a giocare anche solo a scala 40. Se il mio fatto dovesse essere deciso dal gioco sarebbe la fine. Oh e un plauso per il cameo di Lighty Agami. Buona fortuna a giudicare il dio di un nuovo mondo. E per il gioco da brividi che deciderà il tuo futuro, indica assistire a chi è pericolosamente vicino ai Lego. Se gli fa cadere la fine. Per lui ovviamente. Gli anime giapponesi ci hanno abitulati, porca vacca, per avora Decim. Un barista ma solo all'appartenenza. Che no. Uno dei tanti luoghi come il Queen Decim. Ovviamente dopo essere ti prego di non grottare la porta dell'armario. Nel corso di questi giochi che sono decisi... Il corso di questi giochi che sono decisi a caso dagli stessi marcapitati. Perchè la R? Ogni giudice ovviamente il no. Ella giunse al Queen Decim con la consapevolezza di essere ancora viva. Magari era morta, non viva eh. Fine castra, una donna incaricata di abilare ogni... Eh, ho sbagliato. Ricordiamo anche la figura di Clavis. No, era Clavis. Ho fatto un mashup. Grazie a tutti.